Buongiorno, oggi vedremo come realizzare questo pezzo meccanico. Il pezzo meccanico non è particolarmente difficile, basterà realizzare delle viste e poi andarle a portare in 3D. Come farò? Praticamente realizzerò questa parte e utilizzerò il comando regione e successivamente rivoluzione per creare tutta questa prima parte. Quest'altra parte invece sempre la realizzo in 2D, dopodiché comando regione, estrudi, in questo caso il non rivoluzione, e poi andrò a fare delle modifiche sul pezzo 3D. Quindi partiamo subito, faccio un po' di zoom sul disegno, vado a realizzare questo asse, in realtà non lo farò come un asse, quindi niente tratto punto, perché sono tutte linee che poi andrò a cancellare, lungo 244,75. Quindi avvio AutoCAD, disattivo la griglia, attivo orto, linea, 244.75. Allora, vado a fare un po' di zoom con la rotella del mouse. Dovrei fare un offset, perché l'albero, diciamo questa parte qua cilindrica, è spessa, diciamo un diametro di 16, e quindi dovrei fare un offset di questa a distanza 8 sopra e 8 sotto. Però col comando rivoluzione ci serve solo una parte del profilo, o quella di sotto o quella di sopra, noi andiamo a creare solo quella di sopra, quindi io costruirò tutta la parte, diciamo, che sta sopra l'asse. Quindi farò offset 8, solo verso l'alto, inutile farlo verso il basso, tanto poi lo avrei comunque cancellato. Col comando linea vado a chiudere qui, comando linea vado a fare una linea da questo punto verso l'alto di 20, dopodiché posso andare a fare vari offset. Quindi ho fatto una linea che parte da questo punto fino a questo di 20, perché il diametro è 40, quindi noi stiamo facendo solo metà, 20, da questo punto fino a qui, 20. Devo fare un offset di questa linea verticale. A che distanza? Me lo devo calcolare. Qua tutto è 25, 25, meno 5, meno 3, meno 9 e meno 3, mi darà praticamente 5. Quindi questa parte qua è spessa 5, questa 3, questa 9, questa 3 e questa 5. Allora, vediamo se ce li ricordiamo tutti. Quindi offset 5, invio. Faccio un po' di zoom così si vede meglio. Prendo questa e la copia a sinistra. Offset 3, invio. Prendo questa e la copia a sinistra. Offset 9, invio. Prendo questa e la copia a sinistra. Offset 3, invio. Prendo questa e la copia a sinistra. Offset 5, invio. Prendo questa e la copia a sinistra. Allora, ci sono alcune parti che devo andare a chiudere con una linea, cioè questa da 5, questa da 9 e questa da 5. E le vado a chiudere in questa maniera. Si inizia ad intravedere già un po' il profilo, no? Scanalato qua, no? Perché ci sono delle gole su questa parte. Dopodiché vado a fare una linea qui e una linea qui. Quindi queste due sono linee di costruzione che mi serviranno per fare un offset a una certa profondità, cioè in base a quanto è profonda la gola. Come faccio a vedere quanto è profonda la gola? 40 mm è il diametro, 34 è il diametro, diciamo, sul fondo della gola, quindi la differenza è 6. Sti millimetri sono distribuiti 3 da una parte e 3 dall'altra, quindi la gola è profonda 3 mm. Quindi offset 3, invio. Prenderò questa linea e la copio verso il basso, questa linea e la copio verso il basso. Ovviamente questo e questo, quelle due linee che avevo detto erano di costruzione, le vado a cancellare. Col comando linea vado a chiudere. Posso chiudere comunque una linea o posso stirare queste, la stessa cosa. E ovviamente taglia, premo invio e vado a tagliare tutta questa parte qui e anche questa. Diciamo, questo è il profilo che io mi sono creato per andare poi a fare la regione e successivamente la rivoluzione. Allora, concentriamoci su quest'altra parte del nostro pezzo. Che dimensioni ha? Allora, 25, lunghezza 52, la parte centrale è 10, quindi 25, meno 10, 15, e sono 7.5 e 7.5. Quindi andrò a fare una linea. 25, 52, 7.5. Allora, 25, quindi la sto costruendo in un punto a caso, 52, 7.5, dobbiamo andare verso dentro di 35, scendo di 10, 35, 7.5 e vado a chiudere. Qui c'è un raccordo, raccordo, due raccordi con raggio 2, quindi raccorda, raggio, 2, invio e vado a raccordare. Questo spigo, questo diciamo spigo e quest'altro. Qui mi sono ricordato di dover fare una cimatura, quindi vado su Cima e qua c'è scritto Cima 2, 1 e 2, perché sono due, anzi scusate, queste sono i millimetri la distanza, 2 millimetri per 45 gradi. Quindi, Cima l'ho già attivato, che dati ho? Ho l'angolo e una distanza, quindi devo cliccare su Angolo, lunghezza di cimatura 2, l'angolo 45, prendo questo e prendo questo. Così anche questo è completo. In realtà posso andare a creare le due regioni, quindi vado su AutoCAD, reggio, invio, seleziono un oggetto, invio, creazione eseguita di una regione. Leggete sempre che ci sia la conferma. Premo invio per ripetere il comando, prendo questo e premo invio. Creazione eseguita di una regione. Adesso, se ci passo su, mi illumina tutto, quindi tutto il perimetro, che comprende anche l'area interna. Mi posso spostare, diciamo, su una vista che mi permette di apprezzare i tre assi, le tre dimensioni. Allora, abbiamo detto, la prima parte la andiamo a completare col comando rivoluzione. Quindi, riv, invio, seleziono questo, invio, l'asse attorno a cui deve ruotare il profilo è questo qui. In effetti mi dà già un'anteprima, no? Vedete, posso ruotare. Ovviamente qua è già selezionato 360 gradi, cioè che fa l'angolo, cioè il giro completo, che è quello che serve a noi. Quindi, senza scrivere 360, ci basta premere invio. E abbiamo creato già tutta questa parte. Per quanto riguarda, diciamo, questa parte, invece, il comando da utilizzare è estrudi. Selezionare gli oggetti da estrudere. Prendo questo, premo invio. L'altezza, mi sposto un po' più giù sul mio disegno, perché c'è questa vista parziale, no? L'altezza, lo spessore, è 25. Quindi io vado a fare 25 invio. Ovviamente, osservandolo, cosa mi accorgo? Ok, praticamente, c'è un foro, diciamo, su queste due parti, con, se non sbaglio, diametro 10. Posizionato, appunto, il cui asse è a distanza 10 da questo spigolo. Quindi io che cosa vado a fare? Cambio colore, così si vede meglio. Linea, dal centro, vado verso l'interno di 10. La fine di questa linea rappresenta il centro del mio foro, in questo caso del nostro cilindro che andremo a costruire. Cambio subito colore, quindi metto il colore del layer, che è il bianco in questo caso. Cil, cilindro, però prima di fare cilindro mi accorgo che cosa? Che l'asse Z è disposto in questa maniera. Lo devo spostare al posto dell'asse Y, in modo tale che il cilindro mi venga nella giusta direzione. Quindi clicco sui nostri assi, clicco sul pallino sull'asse Z e lo sposto a posto dell'asse Y. Ovviamente quando faccio queste operazioni orto, sempre attivo. Allora, ripeto, quindi cilindro, clicco qui, il diametro è 10. Ovviamente vado verso l'interno, la lunghezza non è importante, tanto è un furo poi passante. Questa linea la cancello. Sot, che sta per sottrai. A questo solido, invio. Sottraggo questo cilindro, invio. Ed ecco i miei due furi. Allora, posso andare adesso a raccordare questi spigoli. Con il raggio 10. Quindi raccorda spigolo, che è un comando per il 3D. Quali sono gli spigoli? Allora, innanzitutto vado a prendere il raggio. Raggio. Abbiamo detto raggio 10. Invio. E seleziono 1, 2, 3, 4 spigoli. Ci dà già l'anteprima. Premo invio. 1. Premo invio ancora per confermare. E un raccordato. Cambio un attimo lo stile di visualizzazione. Metto un realistico. Giusto per farvi vedere dove siamo arrivati. Wireframe. Allora, di nuovo cambiamo colore, così è più evidente ciò che facciamo. Linea. Creo una linea da questo punto a questo punto. Una da questo a questo. Adesso andiamo a prendere il nostro, uno dei due, no? Cioè decidiamo quale spostare. Lo seleziono, tasto destro, sposta. Lo prendo qui dal centro e lo attacco qui. Probabilmente queste linee era anche inutile costruirne perché mi trovava il centro di questa faccia tramite gli snap 3D. Però per sicurezza io le costruisco sempre. Questa anche la posso cancellare. Ovviamente adesso non è un unico pezzo, ma sono due solidi separati. Quindi, unione. Riprendo entrambi e premio invio. Adesso sono un unico solido. In più qui, si vede sia da qui che da qui, c'è un raccordo con raggio 2. Quindi, stesso discorso di prima. RAC. RAC, raccordo a spigolo. Raggio. Non 10, ma 2. Invio. Prendo lo spigolo. Ovviamente mi viene rosso perché qua avevo lasciato il colore rosso attivo. Poi lo vado a modificare dopo. Premo invio e premo nuovamente invio. Seleziono tutto. Cambio il colore. Ovviamente posso cambiare lo stile di visualizzazione e con orbita posso ruotare un po' intorno a ciò che ho costruito. Niente, questo è complito. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti